Nordica Cerignola, ci spostiamo nel bel Salento insieme al nostro inviato il resto del carruccio per capire cosa sta succedendo in quel di Acaia. Carissimi Fabio e Mingo, sono ad Acaia, frazione di Vernole, provincia di Lecce. Qui la situazione pare che sia un po' fuori controllo da parte di chi deve tutelare ciò che la storia ha lasciato. Acaia è l'unico esempio di città fortificata del meridione ed è stata la prima in Italia. L'intento era quello di proteggere la popolazione dei pirati turchi. Oggi questa antica fortezza è in cattive condizioni, soprattutto le mura urbiche che sono crollate in più punti nella totale indifferenza delle istituzioni. Ecco, dal marciapiede praticamente ben finito alle erbacce e il pericolo di crollo. Quindi chi viene da questa direzione è costretto a scendere e quindi occupare la sede stradale e non poter continuare il percorso pedonale adibito. Ma il discorso anche di crollo si ripresenta di nuovo in altri punti. Queste mura secolari stanno venendo giù e nessuno muove un dito a favore di questa storia. È drammatico vederla venire giù, però sono le istituzioni che devono fare... Però so che prima hanno fatto qualche lavoro, poi si sono fermati. Si sono fermati? Non lo so se si sono bloccati perché i soldi sono finiti, però so che prima lavoravano. Acaia era di privati, abbiamo anche la testimonianza. Allora, tutto il castello, compreso il fossato che una parte apparteneva anche mio nonno, fu preso in carico dalla provincia e messo a nuovo. D'altra parte invece è in totale abbandono e questo è il problema. Qual è l'appello che vuoi lanciare a questo sindaco e alla popolazione di Acaia? Di incontrarsi. Molti proprietari sarebbero ben felici di risolvere la situazione e mettersi d'accordo. Signor sindaco, le mura urbiche di Acaia vengono giù. Cosa dobbiamo fare con questi beni storici? È un problema che noi come amministrazione ci stiamo impegnando a risolvere con tutte le nostre forze. Sulla donazione, concordo, magari si facesse un'operazione di questo tipo. Che qualcuno abbia provato, insomma. Bisogna andare oltre, bisogna che tutti insieme ci si metta d'accordo e donino l'intero complesso perché il Ministero o la Regione finanzia se il progetto è funzionale all'opera. Il privato che non può far uso di questa piccola particella perché è un bene storico può donarla tranquillamente al Comune e il sindaco si impegnerà appunto a intercettare dei fondi per ristrutturarli. Questo è un impegno, eh? Dico di più. A me piacerebbe che tutti i privati si mettono d'accordo e donino tutti insieme. Però è anche giusto che se c'è una proprietà privata venga compensata. Quindi io chiedo veramente al Ministro e alla Regione che si facciano parte dirigente in questa operazione. Questo è l'appello del sindaco. La promessa c'è, va bene? E daverno l'è tutto. Per il resto del Carluccio, a voi studio. Beh, speriamo che si faccia davvero qualcosa, signor sindaco. Sarebbe un peccato vedere sgretolarsi quel bel tesoro che avete la fortuna di possedere. Bravo! Grazie! Bravo!